Anche quest'anno siamo a proporre, a presentare il Canicross in Ossola. Per la ormai quinta volta torneremo a gareggiare in Ossola il 13 e 14 febbraio con la Yeti Race e lo Yeti Trophy. Grazie al contributo dell'Ossola Ador Center, del Comune di Crevola d'Ossola e del Comune di Masera anche quest'anno faremo una o due giorni di competizioni, di divertimento e soprattutto di compagnia con i nostri carissimi e amati animali. Il programma di linea di massima è questo, linea di massima per un motivo. In base all'attuale DPCM la gara di domenica 14 è sicuramente autorizzata in quanto gara di interesse nazionale facendo parte della Coppa Italia e delle gare selettive per la nazionale italiana di Canicross. Per cui è autorizzata e verrà svolta sempre come l'anno scorso in località Colonia, nel Comune di Masera su un percorso di circa 5 chilometri completamente pianeggianti. Il sabato pomeriggio invece, nelle vicinanze dell'Ossola Outdoor Center faremo come l'anno scorso un pomeriggio di promozione a questo meraviglioso sport con prove, simulazioni, con possibilità di tutti di provare a correre col proprio cane mettendo a disposizione attrezzatura e esperienza dei partecipanti in quanto saranno tutti i componenti della nazionale italiana. Nel 2020 la gara è stata un grande successo L'unica variabile che ci rimane in sospeso è le condizioni meteo in quanto attualmente il percorso è completamente innevato sono previste altre precipitazioni faremo l'impossibile perché il 14 si possa e il 13 gareggiare regolarmente.